Sono il sindaco del comune di Mendattica, uno dei comuni che fanno parte della strada della Cucina Bianca insieme a Montegrosso, Cose d'Arroscia, Pornassio, Triora, Briga Marittima e Tenda. È stata denominata Cucina Bianca perché è data dalla dominanza cromatica del colore bianco nei suoi ingredienti come le patate, i porri, la farina, i latticini, il formaggio, tutte queste verdure di stagione coltivate in altura nelle malghe sui 1500 metri, 1400 metri nel periodo estivo. La nostra è una piccola azienda a livello familiare e abbiamo anche il marchio a chilometri zero perché comunque acquistiamo tutti i prodotti vicino alla nostra zona. Noi siamo molto affezionati alla nostra introterra e di conseguenza riteniamo molto a lavorare nella zona e con le persone dalla zona.